L'hai cresciuto abbastanza per passare a Ciao Creme? Ciao Bocconcino! Ciao! Fai merenda con me? Ma dove vivi? La merenda non si fa più così! Ecco come si fa con due gusti! Me la fai provare? E tu che mi dà? Un bacio! Eh no! Due gusti, due baci! Ciao Creme 2, la crema da spalmare al gusto di nocciola e cioccolato. Meglio due gusti che uno solo.